Guardate che spettacolo, ho appena arrivati al mio ristorante preferito, che sto facendo conoscere anche a Oriana. Vengo sempre con i miei danni qui, guardate che pesce crudo fantastico, è veramente super buono questo posto, ma poi va bella vista. Io lo so, nipotini che aspettate Perla, adesso arrivano nell'ordine. Anita Olivieri che è a Ponza con gli amici e Perla che è in viaggio, sono andando a Milano, ciao. Vito allora per il pranzo abbiamo preso tutto, no? Un po' di sedia, un po', leggermente. Io sono un pacco, ho avuto un pochino fatto, perché ho avuto un pacco, e visto che mi devo fare 5 ore di viaggio, perché io sto andando a Milano, non ve l'ho ancora detto, che è un fine settimana molto intenso perché devo lavorare, e ne approfitto per farvi una box di domanda sui costumi, perché veramente ci sono tanti messaggi che volete avere tantissimi dentro, quindi la facciamo tutta per voi, dobbiamo passare 5 ore, quindi qualsiasi cosa rispondendo.